Siete degli allievi. Tutto è uno attraverso Mario del Giglio, guida. Spesso sentiamo che non comprendete il nostro linguaggio. Sì, è vero. Però dovete entrare nella vibrazione che in esso è contenuta, altrimenti resta sì un linguaggio, ma non viene percepita la vibrazione emanata. Vedete, abbiamo l'impressione che pretendiate che noi ci modifichiamo, ma quando vi si dice che siete voi che dovete modificarvi al nostro dire, sentiamo non dico un rifiuto totale, ma un voler modificare a vostro piacimento ciò che noi affermiamo. È anche vero che almeno con le parole ci definite maestri. I maestri nella vostra dimensione non permettono certamente dei dibattiti e delle controversie sui loro programmi, sulle loro scelte, ma accettate il loro linguaggio in quanto voi in quel momento siete degli allievi. Torniamo sul perché voglio spiegare l'argomento del linguaggio, per voi così irrilevante, per me invece significativo, in quanto sentiamo tante discussioni tra di voi. Il linguaggio, come abbiamo detto, è usato dal tramite che percepisce il nostro pensiero e non fa altro che tradurre in parole ciò che lui ha sentito. Se fosse usato un altro linguaggio potreste dire che è più fluido, più scorrevole, ma resterebbe il dubbio se la traduzione fosse fedele al pensiero trasmesso. Togliamo per sempre queste difficoltà che sono insite in ognuno di voi. Il linguaggio usato in questo caso è rivolto ai fratelli adeguati e bisognosi di questo linguaggio, altrimenti lo stesso pensiero si potrebbe trascrivere in tanti modi diversi per ognuno di voi. Non è qui il punto. Sapete cosa sarebbe successo? Che ognuno di voi, percependo il pensiero con il suo sentire, avrebbe trascritto ciò che egli stesso avrebbe sentito, ma non avrebbe trascritto il nostro pensiero. Ecco le affinità che si hanno tra le entità comunicanti e il tramite. Ripeto, il linguaggio usato dal tramite è perfettamente congeniale con ciò che dicono le entità comunicanti. Ecco perché diciamo che la medianità deve avere una trasformazione in quanto nel tempo viene plasmata dai continui messaggi ricevuti. Cioè il tramite si trasforma e riceve pensieri diversi e da dimensioni diverse e traduce con il suo linguaggio che deve essere percepito da chi lo riceve e legge. Ecco perché si dice che dovete sviscerare, studiare esaurientemente attraverso le parole, il pensiero trascritto. Il linguaggio quindi è importante sì, ma dovete andare in profondità per poter sentire il pensiero trasmesso. Se invece, rimanendo in superficie, volete interpretare e ritrascrivere il messaggio con il vostro linguaggio, il vostro stesso linguaggio, pur essendo migliore, più fluido, potrebbe non esprimere il nostro pensiero che il tramite ha percepito. Infine è necessaria un'ulteriore precisazione. Nel momento in cui il tramite trascrive le nostre vibrazioni è cosciente e si serve di tutta la gamma delle sue esperienze, diciamo personalità, avute sulla terra. Naturalmente parliamo per alcuni tipi di medianità. Quando si parla di reincarnazione o per meglio dire vite vissute, voi ci credete, ma non avete la minima concezione della sua struttura. Cioè, nel momento della ricezione medianica, il ricevente riesce a decifrare, a codificare ogni particella del nostro pensiero, avvalendosi delle sue personalità vissute sulla terra. È il suo spirito che è in grado di farlo e di ricordare nel momento della ricezione. A voi tutto questo sembra inaccettabile, lo sappiamo, ma fatecelo almeno dire così, poi potrete, chissà, valutarlo. La comunicazione non è altro che una simbiosi della sua struttura messa in atto per comunicare con i piani superiori. Quindi, sia chiaro, ritornando al linguaggio, quello usato, il più delle volte incomprensibile ai molti, può e deve arrivare ai pochi che sono in attesa di riceverlo e così percepirlo come fa il tramite. Perciò non vi affaticate a comprendere di più di ciò che siete. Bevete a piccoli sorsi l'acqua che vi viene donata. Assaporatela, meditatela nel suo giusto valore e non emettete giudizi dati dalla vostra incomprensione dovuta al vostro sentire. Per concludere, siete voi che vi dovete adattare a noi e non noi a voi. Casomai uniamoci con amore, che è l'unico linguaggio datoci dal nostro Padre Celeste. Il linguaggio usato, ripeto, è semplice, sincero e tante volte, anzi il più delle volte, pur essendo semplice, non riuscite a comprendere il suo significato profondo, necessario per una vostra giusta trasformazione, mentre per noi è più che profondo nella trasmissione e traduzione del nostro pensiero.